Buon pomeriggio dalla redazione della TGL News in primo piano la cronaca. La titolare di un ristorante a Casabella di Ziano è stata rapinata nella tarda serata di ieri da tre sconosciuti con il volto coperto e l'accento dell'est. Le hanno portato via 350 euro e poi sono fuggiti nei campi. Un ragazzo di 16 anni invece ha denunciato una rapina nel parcheggio di una discoteca della provincia nella notte tra sabato e domenica. Lo sconosciuto gli avrebbe portato via il cellulare sul caso indagano i carabinieri di Bobbio. Un finto tecnico del servizio idrico è riuscito a farsi aprire la porta da un'anziana di San Nicolò. Una volta all'interno ha aperto un cassetto e ha portato via 1000 euro. La donna di 83 anni si è accorta che qualcosa non andava ha provato a fermare il ladro che però è riuscito a fuggire. Cambiamo argomento in seguito a uno scontro di gioco è finito a terra con un trauma cranico. Il giocatore dell'alsenese Alessandro De Lazzari oggi sta bene e rassicura sulle sue condizioni. Il ragazzo era svenuto sul campo e gli era stato praticato il massaggio cardiaco. Su Tele Libertà questa sera alle 20 e 20 torna l'appuntamento con Zona Calcio con i commenti al fine settimana sportivo. Tra gli ospiti ci sarà anche l'allenatore della Piacenza Arnaldo Franzini. È tutto ci ritroviamo alle 18. Grazie a tutti.